Ciao ragazzi bentornati sul canale bentornati su world of warships ranked battles siamo a bordo dell'incrociatore britannico minotaur rapidamente le squadre sono formate da due corazzate tre incrociatori due cacciador perinieri noi abbiamo tre radar mentre la squadra nemica ha solo l'ades abbiamo la coppia gehring kabarovsk che deve affrontare la coppia gehring per quanto riguarda i nemici allora proviamo subito un lancio di siluri so perfettamente che il 99,9 per cento delle volte i siluri non beccheranno nulla però può capitare magari un cacciador pedinieri nemico che va a centrale può succedere quindi magari lo becco allora dobbiamo essere molto attenti con questa nave visto che si tratta di una nave particolarmente leggera quindi ogni colpo penetra ed è molto facile subire dei colpi devastanti esperienza personale siamo nella mappa mare della fortuna modalità supremazia tre punti di cap in questa mappa solitamente anzi sempre ci sono i punti di alfa e di bravo posizionati centralmente uno quasi sopra l'altro mentre charlie come vedete è distaccato completamente sono diciamo punti per appunto separati incrociatore francese subisce i primi danni noi spariamo qualche ap per far sentire la nostra presenza e anche per cercare soprattutto di bloccare il settore di charlie nel frattempo lì viene spottata anche la des viene spottata la zao abbiamo il fighter nemico che dà fastidio mentre in tutto questo il settore di alfa viene prontamente cappato dalla nostra gearing spottiamo la gearing nemica il radar della minotaur può spottare fino a 9.9 chilometri per più di 40 secondi quindi davvero un tempo infinito per quel giocatore che si ritrova praticamente subito circondato a destra e a sinistra quando il cacciatore torpediniere viene spottato ragazzi mirate sempre il cacciatore torpediniere anche le corazzate infatti qui in chat il giocatore dice ho fatto 12.000 danni su quel cacciatore torpediniere ebbene i cacciatore di neri è molto importante distruggerli e sparare tutti insieme appunto a quella classe di nave la zao zao continua a rimanere operativa sul settore di charlie non fa niente abbiamo sempre la nostra affidata di amato e una cabarosc noi dobbiamo comunque ripeto ancora una volta rimanere molto attenti per quanto riguarda la posizione non andiamo troppo scoperti se non c'è motivo di spingere altrimenti potremmo essere distrutti allora vediamo un attimo il diamato dietro il il solo 8 cerchiamo qui i siluri se ricordo bene noi veniamo spottati a 8.9 chilometri i nostri siluri arrivano a 10 chilometri uno scarto abbastanza buono solo che lui purtroppo sta virando in questa virata già mi fa capire che i siluri non andranno a segno nel frattempo la nostra il diamato purtroppo viene presa di mira dalla zao e penso anche dall'incrociatore francese quindi davvero una situazione infernale la diamato avversaria non se la passa di certo nel migliore dei modi si va a schiantare contro l'isolotto e ci dà la possibilità di innaffiarlo con le AP le AP ragazzi fanno malissimo ovviamente più il lato viene mostrato più fanno male però anche i vari 500, i 1000, i 1500, i 2000 sono tutti punti che noi andiamo ad accettare anche perché sono davvero ripetitivi nel frattempo vorrei attirare la vostra attenzione sul settore di alfa abbiamo un cacciador pediniere che sta cercando ecco no ce la fa niente distrugge il nostro cacciador pediniere purtroppo viene timbrato qui tra l'altro rivedendo il replay non avevo tiro sul cacciador pediniere perché si è visto per un attimo e non avevo tiro comunque è più importante adesso distruggere la diamato e non cercare un tiro improbabile sulla gearing che adesso si fa vedere in maniera buona, corretta, limpida tra l'altro abbiamo anche la des che sta avanzando quindi insomma una des è più che sufficiente per distruggere una gearing lui lancia i siduri, attenzione molto male i siduri però i siduri sulla des che viene timbrata lui cerca il fumo però ragazzi con la cadenza di fuoco della nostra minotaur e comunque sia il fumo poi della des non lascia uno scampo a quel giocatore siamo in vantaggio di una sola nave però è pur sempre una situazione difficile perché ripeto ancora per l'ennesima volta la nostra nave molto facilmente viene danneggiata quindi contiamo una nave in meno tra virgolette, molte virgolette abbiamo la nostra Yamato che cerca ancora un'avanzata coraggiosa sul settore di Charlie tra l'altro la Yamato ripeto ha subito colpi da tantissime navi è stata poi essenziale nella distruzione del primo caccia d'orpediniere su Charlie quindi anzi un contributo davvero molto prezioso allora continuo a tankare abbiamo il caccia d'orpediniere fermo su Charlie qui la Henry la vediamo per un secondo più che sufficiente per sparare mille colpi una cadenza davvero impressionante tra l'altro più veniamo danneggiati più velocemente spariamo grazie a scarica di adrenalina una skill del comandante davvero impressionante la Montana viene va a catturare il settore di Alpha e vediamo adesso com'è la situazione siamo 4 contro 4 3 incrociatori una corazzata un caccia d'orpediniere 2 incrociatori e una corazzata noi davvero una situazione difficile non è per niente facile anche se abbiamo un vantaggio di 100 punti non vuol dire nulla l'importante è avere le navi e soprattutto i punti vita perché tu magari puoi avere anche la nave più forte del gioco però poi se hai mille punti fai ben poco non abbiamo tiro sulla Montana sta avanzando la Curfust ragioniamo su cosa fare abbiamo anche la Des che continua penso a sparare la Montana dovrebbe avere il tiro qui la Des nemica molto sicura di sé secondo il mio punto di vista perché provo il K addirittura di Bravo ancora più centrale rispetto ad Alpha perché Alpha bene o male si può catturare anche dalla posizione della Montana però il punto di Bravo ripeto è centrale quindi bisogna avanzare abbastanza proviamo un po' di colpi su quella Des per il momento 42.000 danni una kill fino a questo momento per l'appunto una base difesa stiamo difendendo anche la base 3.400 molto bene vediamo altri mille sono tutti i punti che noi andiamo ad accettare non si butta via nulla 4.000 fantastico 1.900 perfetto la Curfust cerca di tenere il lato contro la Montana qui nel frattempo qualcuno mi va a dire vai sulla sinistra insomma ragionamenti tutti i suoi è una gara psicologica quella della Curfust con la Montana il primo che fa una mossa errata potrebbe subire una cittadella oppure peggio ancora potrebbe essere distrutto continuiamo qualche colpo la Des nemica come vedete continua la sua avanzata ha cercato il capo su Bravo fallendo grazie alla nostra copertura tra l'altro adesso esce anche l'incrociatore francese completamente dimenticato io l'avevo cancellato dalla mente anche in partita la stessa identica cosa quando l'ho visto non mi sembrava vero fortunatamente 11.000 punti non sono tantissimi però facciamo sempre molta attenzione anche perché il giocatore avversario con devastatore ci fa capire che è particolarmente arrabbiato per non dire un'altra cosa la Curfust va a timbrare la Des in maniera molto precisa netta sicura chiediamo un po' di spot vediamo un attimo 2000 abbiamo ancora punti vita quello che dicevo prima se non hai punti vita non fai nulla quindi è molto importante cercare in qualche modo di conservarne il più possibile soprattutto per la parte finale della partita possiamo recuperare tra l'altro della vita perché non la vado a recuperare qui mi sarò scordato al 99% Curfust ancora tiene in scacco la Montana infatti qualcuno dice aiutate la Curfust però è anche vero che io qui non posso volare non posso nella maniera infatti lo vado anche a scrivere cioè o faccio una cosa o faccio l'altra e qui secondo me è più importante distruggere la Zao perché bene o male la Montana penso che sia molto intimorita dalla Curfust e viceversa perché ripeto ragazzi qui basta un piccolo errore e la cittadella due o tre cittadelle le vai a mangiare senza troppi problemi la Curfust piano piano sta avanzando la Montana piano piano sta girando alle sue spalle quindi una situazione davvero critica difficile e in più c'è anche la Zao una Zao molto fastidiosa che dobbiamo assolutamente distruggere quel famoso giocatore arrabbiato quindi dobbiamo intervenire andiamo anche con la Death la Death qui prende coraggio vediamo se riusciamo in qualche modo a timbrare una Zao ormai esausta con 6.000 punti non può fare davvero nulla 6.000 sono pochissimi sono troppo pochi qui noi andiamo a prendere pochi danni ci portiamo a casa la Kill ed è il momento di cappare dobbiamo comunque tenere conto anche del punto di cap è vero che siamo 4 contro 1 non lo metto in dubbio però ragazzi vi assicuro non mollate mai anche se avete un vantaggio lo dirò sempre anche un vantaggio di tante navi continuate a martellare continuate a giocare continuate a cappare non ve ne fregate nulla perché basta un colpo devastante sulla Death e poi distrugge la Curfus e siamo 2 contro 1 e la partita può cambiare perché rischiare cappate andiamo a cappare la Death qui secondo me poteva provare anche un RAM sinceramente cosa che non fa e si mette nei guai da sola non so se sta sparando le HE o le AP perché qui io non vedo nulla assolutamente nulla di come sta andando lo scontro tra le due navi però è anche vero che magari una piccola rammata ci poteva stare per levare dei punti vita assicurati ecco in chat viene qualcuno sta dicendo AP c'è chi dice le HE insomma poi viene anche timbrata quindi diciamo che qui la Death si è persa in un bicchiere d'acqua il fatto di rammare è una cosa corretta poi bisogna vedere bisognerebbe vedere se il nemico ha la bandiera eccetera eccetera però se sei alle strette e ti rimane solo quello fallo e basta non ci pensare troppo perché altrimenti potrebbe essere troppo tardi rimane una Montana con 14.000 punti noi stiamo avanzando le nostre AP sono cariche pronte per colpire il bersaglio grosso calibro quindi quel giocatore effettivamente è stato molto pericoloso vediamo se portiamo a casa la quarta kill una partita molto studiata molto attenta abbiamo rischiato poco anzi il giusto lui guarda dall'altra parte e possiamo guardate qui 6.000 con le AP vabbè siamo nel lato a una distanza anche molto molto piccola ragazzi risultati posto scontro ragazzi video terminato grazie per l'attenzione noi come sempre ci vediamo alla prossima ciao ciao